Buonasera a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta su DAX e su Fuzimib che fa da riassunto della giornata appena passata. Iniziamo dal nostro DAX. Il DAX ha aperto con un candelone rosso fortissimo e poi ha iniziato a risparare su in maniera molto molto rapida. Per cui continuiamo ad avere il dubbio che questo possa essere un nono T-3 oppure no. Anche perché come vedete da questo minimo a questo sono passate 26 barre. Per cui anche se ci sono delle piccole anomalie, bisogna ancora capire se alle 15.45 è successo qualche cosa, è voluto partire ancora qualche cosa. Eventualmente una seconda parte di ciclo. E vediamo. Allora dunque alle 15.45. Il discorso è che mediamente un ciclo a ribasso tendenzialmente fa il suo massimo nella prima parte e poi tende a scendere. E quindi è per quello che mi chiedo se qui non sia partito o un decimo T-3 oppure un secondo T-3. Però la cosa che mi interessa di più nella realtà dei fatti è che, o dovrebbe interessare tutti quelli che come me sono i massi short in overnight, è questa, perché questa è la vera scommessa. Ovvero siamo arrivati a 31 barre di inverso, da questo massimo a questo massimo ne abbiamo fatte 37, primo T-3, primo ciclo giornaliero. Da questo a questo ne abbiamo fatte 44 spaccate. Quindi teoricamente che cosa mi aspetto alla chiusura di un T-2 dopo due T-3 inversi? La partenza di un altro T-2 inverso che richiede perlomeno un 3 ore di spinta verso il basso, un T-4 inverso rialzista, spinta verso il basso di indice. Per cui essendo arrivati a 44 barre, avendo fatto una fatica pazzesca a temporaneamente superare questo livello, dato che eravamo entrati in violazione di questo minimo a 12.148 short, eravamo comunque andati in gain, ma non mi bastava come cosa, ho preferito lasciar correre, intanto lo stop loss è stato messo qua sopra questo massimo a 12.224 e l'abbiamo messo non più per la percentuale relativa all'intraday, ma per quella relativa all'overnight, che è molto più ampia. E oltretutto, dato che mi aspetto che davvero parta un secondo T-inverso valido, che potrebbe essere più di un T-inverso, come dicevo un tempo fa, nelle scorse analisi, sono disposto eventualmente non solo ad andare in overnight, essendo temporaneamente in perdita, ma anche ad aggiungere, sono disposto ad aggiungere, un secondo ed eventualmente un terzo chip si dovesse provare ancora a salire. Salire domani mattina, teoricamente, sarebbe difficile, i future infatti sono quasi in parità, sono leggermente positivi, più 15 punti se non mi ricordo male, per il fatto che saremo arrivati a 44 barre, può tentare di fare eventualmente un raccordo, ma è un'ipotesi estremamente remota. Eventualmente invece dovrebbe provare ad aprire con un gap down, o un lap down nella realtà di fatti, più facile un lap down. Vediamo, il discorso è tutto appunto nel capire, se questa centratura proposta, come credo che sia, è corretta, oppure se ci sono delle cose ancora da controllare, ma di diverso da questo vedo veramente molto molto poco. Altra cosa interessante, con questo minimo siamo andati a oltre il 61,8% di ritracciamento da questi massimi rispetto a questi minimi, per cui abbiamo rimbalzato anche per quel motivo, ma con una forza che sinceramente non mi aspettavo, ha fatto un altro ups di Williams al contrario, e poi finalmente è ritornato nel verso giusto, ma non è mai violato questo livello qua, dei 12.092, è uno dei livelli dell'algoritmo che avevo, se non sbaglio, era attorno a questo livello, ok, quelli che do la mattina con l'algoritmo, e quindi mi raccomando, attenzione, abbiamo temporaneamente bucato la media mobile a 50 periodi, ci avviciniamo a questa media mobile gialla e a livello superiore della kuma, ma il tempo ci direbbe finito secondo t-3 inverso, finito primo t-2 inverso, ora deve partire un secondo t-2 inverso a due giorni di inverso. Per quanto riguarda invece il Fuzzimib, stessa identica situazione sostanzialmente, dopo aver avuto un primo t-3 con una spinta fortissima, ok, abbiamo chiuso a 40 barre, dopo l'apertura in gap down abbiamo ripreso tutto sempre con uno Psy-Williams, successivamente siamo andati a fare dei minimi, ma arrivati qui a 25 barre abbiamo ripreso a risalire. Attenzione che anche in questo caso, e lo metto di nuovo alle 15.45, metto un bel punto di domanda, perché uno mi potrebbe dire, ma Jacopo, scusa, con questo minimo di ore già rialzo, con questa roba qua, con più di 24 barre da 15 minuti e rialzo, non sta partendo eventualmente un nuovo t-1? Sì, la risposta è corretta, la domanda è corretta, sta partendo eventualmente un nuovo t-1. Ma siamo sicuri che faccia parte della vecchia struttura di questo t oppure no? Perché per ora può fare tranquillamente parte di questo t settimanale, quindi rivincolarsi a ribasso domani. Dopo un t-2 inverso, ne parte un altro, e quindi ci vuole una spinta perlomeno di un t-4. Anche in questo caso la situazione è analoga e il ritracciamento qui è stato anche più divertente, perché è stato praticamente identico all'altro. Sempre la stessa identica cosa. Altre cose in particolare non ne ho da far vedere. Notate soltanto qui, non ci sono nel breve divergenze rialziste di sorta, ci sono convergenze, quindi non servono assolutamente niente. Mi raccomando, ricordiamoci che siamo arrivati perlomeno comunque di inverso a un settimanale più un secondo settimanale in partenza. per quanto riguarda invece l'indice, siamo già a 8 barra a questo punto, su massimo 11. Ok. Questo è tutto. Per cui se l'analisi vi è piaciuta, mettete un bel like, sottoscrivete il canale che intanto è gratuito e cliccate sulla campanella per ricevere gli aggiornamenti appena li faccio. Viceversa, se volete dedicare più tempo all'analisi ciclica voluta, contattatemi direttamente alla mail che ho dato questa mattina. È la cosa più semplice in assoluto. Posso darvi anche delle dispense gratuite per partire con l'analisi ciclica di base. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata.